Domenica si va sul campo della Palmese, dell'ex del Valdiano Criscuolo, che ha pareggiato con la Battipagliese. Sì, noi andiamo a Palma, l'abbiamo già incontrato in Coppitalia, abbiamo già battuto pure in Coppitalia. Sicuramente è una squadra buona perché ha giocatori importanti, era stata costruita perché doveva fare un campionato di vertice. Dobbiamo andare con lo stesso spirito che abbiamo messo oggi dopo il gol. Dobbiamo essere sempre vogliosi, dobbiamo essere granitici, dobbiamo essere umili e giocarci alla pari con loro. Dobbiamo essere autorevoli, non dobbiamo avere paura dell'avversario.